Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò le figurine che ho attaccato sull'album di Harry Potter Allora, innanzitutto Non ce le avevo tutte, quindi non le ho attaccate tutte Allora, qua Che anche se è una perfetta, però Qua e qua Su Sulla 17 Qua Sulla 23 di Grifondoro, la casa Qua Poi qua niente, perché non ne ho trovata nessuna Qua nemmeno, non ne ho trovata nessuna Qua La 55 Poi Qua la 70 Che prima ne ho trovato un doppione, quindi non l'ho buttata Poi qua ne ho la 71 Qua la 77 E qua la 78 Qua niente Qua niente Qua nemmeno, qua nemmeno, qua nemmeno, qua nemmeno Qua neanche Qua Qua come vedete Neville, poi qua c'è Piton, qua c'è Voldemort con la bacchetta di Sambuco, poi qua ancora niente, qua la 164 e qua la 168, che anche questa non è attaccata perfetta però, poi questa è l'ultima pagina, come vedete dopo c'è questo, qua ancora niente, non ho attaccato questa, perché questa è la Y12 e come vedete tutte queste hanno i numeri normali, quindi quando troverò una, quindi non so come attaccarla.